Venerdì 1 novembre 2019. Mancano 60 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno dello scorpione. La chiesa ricorda tutti i santi. L'onomastico. Oggi l'onomastico di tutti i nomi ad espoti. Questo perché i santi ufficialmente riconosciuti nel calendario liturgico sono solo una piccola parte di quelli esistenti. Perciò oggi festeggiamo tutte quelle persone il cui nome non coincide con un santo del calendario. Accadde oggi. Il primo novembre del 1962 esce in Italia il primo numero di Diabolic, il personaggio dei fumetti creato nel 1962 da Angela e Luciana Giussani. In questo primo numero, che portava il titolo di Il Re del Terrore, Diabolic è fidanzata con Elisabeth. Incontrerà infatti Eva Kant solo nel numero 3 della serie. Il fumetto viene da allora edito senza interruzioni. Chi è nato oggi? Oggi facciamo gli auguri all'attore inglese Daniel Craig, nato a Chester il primo novembre 1968. È noto soprattutto per l'interpretazione di James Bond, per il quale è stato candidato per due volte ai premi BAFTA come miglior attore. Le frasi del cinema. Cos'è un vincitore senza lo sconfitto? Il vinto è l'altra faccia della medaglia. L'eroe nell'ombra che brama la luce. Dal film Il ricco, il povero, il maggiordomo. Proverbio del giorno. Se per sfortuna la tua sorte sarà di mendicare, bussa soltanto ai cancelli grandi. Proverbio arabo. Proverbio del giorno.